Ciao amici, bentornati sul mio canale, io sono 4D Web Designer ed oggi faremo un tutorial sul download e sull'utilizzo di Figma. Questo video mostra e serve a capire tutti gli utilizzi possibili di Figma. Questo perché Figma ha diversi utilizzi, si può utilizzare infatti scaricando l'applicazione desktop o mobile oppure si può utilizzare via browser. Vediamo insieme come si utilizza. Allora innanzitutto se non avete ancora un account, quindi non vi siete mai registrati, dovete andare sulla pagina di Figma, sulla home page di Figma, che è questa chiaramente può cambiare in relazione a quando vedrete il video. Da qua potete fare la login, un'alternativa potete registrarvi, quindi se non avete un account createne uno, quindi potete usare anche la Google Login. Prima di andare a loggarci o a registrarci andiamo a vedere un po' che cosa mostra il sito. Allora, innanzitutto abbiamo sotto la voce Products, abbiamo una voce che si splitta in due, Figma e FigJam. In questo tutorial tratteremo il download di Figma, FigJam lo vedremo in un altro. Nel menu di Figma salta all'occhio la voce Downloads, quindi se ci clicchiamo sopra, atterriamo appunto nella pagina Downloads, dove è possibile scaricare l'app di Figma per desktop mobile e poi c'è anche un font installers che francamente non serve, perché come dice qui, se scaricate la desktop app non è necessario scaricare i font. Cominciamo a vedere l'app desktop, quindi scaricate l'app in relazione al vostro sistema operativo, io Mac, se voi avete Windows, scaricate cliccando su questo link. Ci sono anche delle beta apps, ma in questo caso non ci interessano, quindi scaricate pure l'app e fate partire l'installazione. Prima ancora di andare a fare la login, ok, andiamo a vedere la voce Pricing per capire un po' come funziona il pricing di Figma. Allora, Figma ha un piano free, almeno ancora al momento, quindi ha un piano gratuito, forever vuol dire che è praticamente una licenza infinita e queste sono le features del pacchetto free, ovvero avete tre Figma e tre Figgem files, potete avere un numero illimitato di file personali e un numero illimitato di collaboratori, ok? In più avete ovviamente l'app mobile, i plug-ini, widget e i template, ovviamente. Nel secondo piano Figma Professional, che costa 12 euro al mese, ma se fate il pen annuale, perché in alternativa se volete pagare mese per mese vi costerà 15 euro, avete chiaramente delle features in più, che sono un numero illimitato di version history, un po' come funziona con GitHub per lo sviluppo web e mobile, ok? E soprattutto avete sharing permission, quindi potete condividere i permessi per modificare i vostri file. Avete delle team libraries e avete anche le audio conversations, quindi questo diciamo è il pacchetto Figma per i pro, ok? Si passa poi a Figma Organization, che chiaramente ha molte più features del professional e chiaramente però anche qua il prezzo cambia. Quindi abbiamo visto i prodotti e abbiamo visto i prezzi, logghiamoci oppure registriamoci a Figma. Quindi torniamo su products, quindi andiamo su login, se avete già una user, loggatevi in alternativa, registratevi. Io in questo caso farò login con Google. Una volta che vi siete autenticati, come vedete, non vedrete più la landing page, chiamiamolo così, di Figma, ma attererrete direttamente all'interno del software. Quindi questa qua praticamente è la home di Figma Software, dove trovate tutti i vostri file più recenti e dove potete iniziare un nuovo file. Ma non solo, perché in questa barra di navigazione avete una search bar dove potete cercare file Teams for People, come dice qua, placeholder, oppure potete esplorare la comunità. Quindi questo è il metodo per utilizzare Figma da browser. Una volta che siete loggati, basterà andare su Figma.com e il sito vi reindirizzerà direttamente alla dashboard dove avrete i files più recenti. Se non volete utilizzare Figma da browser, potete scaricare la desktop app, che è quello che ho fatto io. Quindi cliccate su Figma dopo averla scaricata e installata e come vedete si aprirà la stessa identica schermata che abbiamo visto in Figma Browser. Quindi qua vedete i vostri file più recenti, vedete la community. Questo è il pannellino per fare logout nel caso in cui abbiate più di un account e dovete fare la login con un altro account. E chiaramente qua abbiamo i nostri pulsanti per iniziare un nuovo design file o un nuovo file di FigJam. Quindi questo è il modo con cui si utilizza Figma via desktop app o via browser. Poco fa, quando eravamo nella sezione downloads di Figma, che ancora non eravamo né loggati né registrati, avevamo visto una voce inerente ai Google Fonts. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, se io utilizzo lo strumento testo e provo a scrivere un testo casuale, nel pannellino della spalla destra Text, dove è possibile editare i testi, quindi scegliere la tipografia e il peso, come noterete, cliccando sulla Select del testo, noterete che abbiamo già precaricati tutti i Google Fonts. Credo che tutti quanti conosciati i Google Fonts, non so nient'altro che una libreria di font con licenza libera. E diciamo, andare sul sito dei Google Fonts vi permette di avere un'anteprima su quello che è il carattere che state scegliendo, ok? Quindi potete utilizzarlo in questo modo, scrivendo qualcosa e andando a vedere in sostanza qual è il carattere tipografico più adatto per quella specifica esigenza. Quindi supponiamo che nel mio progetto voglia utilizzare un Ubuntu, torno su Figma, seleziono il mio testo e seleziono Ubuntu dalla Select dei caratteri tipografici. Quindi posso cercare anche premendo la U, Ubuntu. Quindi questo è il modo con cui si utilizzano i Google Fonts che sono appunto precaricati nella desktop app. In realtà non c'è nessunissimo problema anche se utilizzate l'app direttamente da Google Chrome o dal browser che utilizzate, perché come vedete anche in questo caso i Google Fonts sono caricati. Quindi questo qua è praticamente lo stesso testo di prima, quindi clicco sulla Select del carattere tipografico, premo U sulla tastiera e come vedete anche in questo caso posso selezionare Ubuntu. Quindi anche da Google Chrome posso utilizzare tranquillamente tutti i Google Fonts. Se torniamo nella pagina Downloads, io adesso questa la vedo perché ho aperto la finestra come vedete da incognito, noteremo che c'è una sezione dedicata alle mobile app. Quindi per scaricarla sul vostro smartphone, che sia Android o iPhone, basta cercarlo sullo store specifico. In alternativa potete farlo anche da desktop. Quindi per esempio io ho Android, andrò a installare direttamente quest'app selezionando il mio smartphone, ma in ogni caso potrebbe essere comunque più comodo farlo direttamente dal vostro smartphone. Quindi scaricate la vostra app per il vostro device e andiamo a vedere come funziona. Una volta che avete scaricato l'app per il vostro smartphone, lasciatelo un attimo in standby e fate esattamente questo procedimento che vi servirà innanzitutto a capire come funziona la community, secondo come scaricare degli asset gratuiti dalla community e terzo come visualizzare un'anteprima fedele sul vostro smartphone utilizzando appunto l'app. Quindi seguite questi passaggi. Dunque tornate nella vostra home page di Figma, nel caso in cui la stiate utilizzando da browser. Diversamente se state utilizzando l'app desktop, cliccate su quest'icona e cliccate su export community. Questa qua è la pagina che vi dà il benvenuto alla community di Figma, dove potete trovare un sacco di risorse gratuite come templates, widget e plugin. Quindi senza andare ad approfondire nello specifico tutto quello che potete trovare, fate esattamente questi passaggi. Allora fate scroll down, ok? E arrivate a questa sezione, filtrate su all products cliccando su Figma, cliccate su files perché non ci interessa al momento i plugin e i widget e cliccate su free, ok? All creators, va bene così. In questo caso praticamente vi fa vedere tutte quelle risorse che possono essere scaricate in modo gratuito. Allora in questo caso specifico andiamo a scaricarci questa, smart home application. Quindi se non la trovate provate a scrivere smart home application, ok? Quindi cliccate, vi si aprirà questa pagina e poi cliccate successivamente in open in Figma. Come vedete parte l'upload e arrivate a questa pagina. Come vedete l'autore di questo template ha diviso tutto il progetto all'interno di pagine. Quindi se avete visto il mio tutorial sulle basi di Figma sapete benissimo di cosa sto parlando. Se ancora non l'avete vista e non sapete che cosa sono le pagine. Vi posso dire in breve che è un tipo di visualizzazione che ci permette di organizzare meglio le nostre tavole. Nel senso che come potete vedere in questo caso quest'autore ha utilizzato una pagina per le cover, una per il brief, quindi qua ci sono dei concetti più che altro testuali per capire un po' qual è la filosofia con la quale è stata progettata l'app. Ha autorizzato un'altra pagina per le style guide, quindi come vedete c'è la tipografia, sistema di colonne utilizzato, le ombre, le icone e i colori. C'è addirittura una mood board dove in sostanza ha fatto dei screenshot su app che secondo l'autore potevano essere presi d'ispirazione per il suo progetto. Poi c'ha addirittura dei wireframe bellissimi perché come vedete qua si parte sempre disegnando su un foglio di carte a penna l'app a bassa fedeltà. Chiaramente poi si fa una foto e si riporta su Figma ma tutto questo poi lo vedremo in un tutorial che farò più avanti. Infine andiamo su iFidelity. Allora su iFidelity praticamente abbiamo le schermate di questa app di smart home che chiaramente non sono collegate tra loro, nel senso che non c'è nessun tipo di prototipo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io faccio partire l'anteprima di questa schermata sul mio smartphone utilizzando l'app di Figma questa non funziona, nel senso che non ci sarà nessuna interazione se faccio tap su get started perché come vedete su prototype non c'è nessun tipo di interazione. Quindi andiamo a creare qualche piccola interazione e poi andiamo ad aprire l'app via smartphone, ok? Quindi seguitemi attentamente in questi passaggi. Non è fondamentale che sappiate utilizzare ancora Figma, è sufficiente che mi seguate nei passaggi, ok? Quindi cliccate sulla tab prototype. Innanzitutto selezioniamo tutte le schermate dell'applicazione, ok? Riclicchiamo su design e andiamo a togliere l'occhielino a layout grid, quindi 1000 rows, 1000 rows e 4 columns, in modo tale da avere una visualizzazione più cara dell'app. Ok, torniamo su prototype e selezioniamo il bottone get started, ok? Quindi ci clicchiamo sopra e nella palla dei livelli noterò che avrò fatto click su questo livello button, ok? Quindi una volta che ho cliccato sopra, se noi ci avviciniamo e faremo over sul bottone noteremo che compare questo più. Questo ci permette praticamente di connettere questo bottone a un'altra schermata con una precisa interazione, quindi clicco e trascino e porto praticamente la freccia alla schermata che sta alla destra e quindi qua devo fare on click, navigate to home, va bene, animation, lasciamo smart animate, lasciamo pure ease out 300 millisecondi. Nella seconda schermata invece andiamo a fare doppio tap sulla bottom bar e andiamo a intercettare questo bottone, ok? Quindi cliccateci sopra, nella spalla dei livelli vedrò tab bar, in realtà sono tutti e quattro tab bar, quindi sarà il terzo contenuto all'interno del frame 611 e facciamo la stessa cosa, quindi prendiamo questo bottone e lo colleghiamo alla quarta schermata, ok? Lasciando esattamente queste impostazioni, quindi prendiamo lo stesso bottone della terza schermata e facciamo la stessa cosa, le impostazioni vanno bene così e infine colleghiamo giustamente il bottone home alla schermata di partenza. Quindi come vedete ho fatto un mini prototipo, l'ultima cosa che faremo sarà questa, clicchiamo su splash screen, c'è già flow one, quindi c'è già un punto di partenza perfetto, se clicchiamo sul play vedremo un'anteprima di quello che abbiamo fatto. Quindi clicco su play, mi si apre questa che è la schermata di partenza, quindi secondo quello che ho fatto se clicco su get started, atterro nella home dell'applicazione mobile e ugualmente se clicco su quest'icona, vi ricordate, dovrei andare nella schermata power usage, ok? Quindi da questa schermata per tornare indietro non devo fare nient'altro che fare tap o clic in questo caso sull'icona home. Quindi come vedete il nostro prototipo funziona perfettamente. Ora apriremo questo stesso prototipo direttamente sullo smartphone utilizzando l'app di Figma che abbiamo appena scaricato. Ok, adesso apriamo l'app di Figma sullo smartphone. Come vedete nei file recenti dovreste vedere smart home application, quindi fate tap, si apre il prototipo che abbiamo visto poco fa e se fate tap sulla prima iconcina in basso a sinistra, quella con questi due fogli, praticamente vedete tutte le pagine, ok? Adesso ne queste non ci interessano, andiamo direttamente su High Fidelity. Tappiamo su High Fidelity, si vedono le quattro, anzi le otto schermate, quattro delle quali ci abbiamo lavorato sopra creando un prototipo molto semplice. Per vedere un'anteprima molto realistica dell'applicazione basta fare tap su Play, quindi la seconda icona nella tab bar, fate tap, qua vi dice long press with two fingers to activate the prototype menu. E questa è praticamente la schermata su cui abbiamo lavorato. Se facciamo tap su Get Started, chiaramente va alla schermata che avevamo collegato e se facciamo tap sulla terzo bottone, l'icona ha un piccolo artefatto ma non c'è nessun problema, facciamo tap, come vedete va alla schermata Power Usage, quindi come vedete il prototipo funziona perfettamente. A questo punto se rifaccio tap sull'icona Home, la prima a sinistra nella tab bar, nella bottom bar scusate, torno alla schermata Home, ok? Questa è la vera e grande utilità dell'app mobile di Figma. Ok, il tutorial è finito, spero vi sia piaciuto, se avete domande non esitate a fare nei commenti, vi invito come sempre a mettere like al video e iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanellina per essere aggiornati sulle notifiche. Sul mio canale ovviamente trovate, oltre a questo video che vi insegnerà appunto a scaricare Figma e a utilizzarlo in tutti gli ambienti, trovate anche dei tutorial, questo qua in particolare, che vi insegnerà le basi di Figma, quindi dopo questo tutorial qua, Figma tutorial e basi, comprenderete a pieno tutta l'area di lavoro di Figma, quindi conoscerete tutti gli strumenti, come utilizzare lo strumento testo, come creare le forme, come utilizzare i componenti, l'auto layout, tutte le funzionalità di Figma in sostanza. Una volta fatto questo video, quello sulle basi di Figma, potete creare un sito portfolio, quindi guardando questo tutorial. Quindi per oggi è tutto, non mi resta che salutarvi, ci vediamo al prossimo tutorial e un saluto da For.